Campeoni italiani di categoria professionisti, Alvise e Emanuela ed è ritorno alla polca, un altro polchissimo, non è rincisimo, perché è la storia di Romagna Vai Agostino! Alvise Emanuela, donate Alvise Pantalea Emanuela, ritorno alla polca Anche i campioni, anche gli angeli possono sbagliare Anche i campioni, anche gli angeli possono sbagliare Anche i campioni, anche i campioni italiani di categoria professionisti Grazie Alvise, grazie, grazie Amanuela Bene, ritorniamo al nostro programma